benvenuti nel podcast della psicanalista Laura Pigozzi alla radice delle dipendenze affettive in famiglia in coppia e nei gruppi laurapigozzi.com laurapigozzi.it allora oggi è il 16 agosto avete fatto un buon ferragosto spero avete mangiato avete bevuto avete ballato e quindi il 16 agosto mi sembrerebbe proprio la giornata ideale per prendere un libro mettersi sotto un albero o sotto l'ombrellone o sulla cima di una montagna o in riva a un lago o con i piedi a bagno in un fiume che scorre che eracliticamente scorre e prendere un vecchio libro sì perché l'agosto il 16 agosto è una bella giornata per un vecchio libro e allora io vi ripropongo un vecchio libro di Philip Roth che si chiama pastorale americana lo so lo so che c'è anche il film in una delle piattaforme più note però leggetevi il libro perché il film che non non è fatto male non non vi dà tutte le sfumature del libro perché Roth è linguaggio allora io vi voglio proporre la lettura di questo di questo libro con un taglio un po' particolare ed è un taglio che che ho pensato per una conferenza che ho fatto a maggio a Milano alla casa della cultura e che è la conferenza sulla eredità una conferenza sull'eredità era una serata psicoletteraria grazie a dio ci sono queste bellissime serate ero con un altro collega con un economista con un formatore aziendale insomma eravamo una compagine di scellerati e ben diversificati io appunto ho alla domanda che cosa cosa vuol dire ereditare ho ritirato fuori questo libro i miei colleghi hanno tirato fuori Budenbrock ovviamente Budenbrock un altro libro stupendo Thomas Mann meraviglioso quindi diciamo il 16 agosto la giornata dei classici io però vi parlerò di Philip Roth pastorale americana ci interessa perché la questione dell'eredità ed è il taglio su cui voglio voglio leggere questo romanzo la questione dell'eredità è una questione oggi molto 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 importante noi abbiamo bambini che vengono al mondo già con un conto corrente con l'intestazione di un conto corrente con un'assicurazione sulla vita con quindi abbiamo come dire siamo preoccupatissimi di ciò che erediteranno i nostri figli ecco allora se voi siete tra questi o anche se non siete tra questi forse questo questa puntata vi può interessare allora cosa vuol dire ereditare un'eredità importante per esempio pensiamo ai Budenbrock ma pensiamo anche a allo svedese lo svedese aveva una bellissima azienda di guanti siamo nella Newark Newark degli anni 70 più o meno allora come si eredita un'eredità importante e come si mette insieme l'eredità importante con il desiderio successivo soggettivo quindi cosa vuol dire accettare un'azienda in eredità che cos'è questo è far fronte a un principio di realtà oppure è ereditare il desiderio di un altro questo è il centro dell'argomento su cui voglio intrattenervi per lo svedese che è appunto il protagonista poi lui era stato facile perché perché si era innamorato dello stesso lavoro del suo vecchio questo è tutto quanto ci dice Roth niente di introspettivo con questo romanzo Roth costringe il sentimento americano a una introspezione ma lo fa a suon di bombe e che cosa dunque avrebbe ereditato la figlia dello svedese una genealogia aziendale questa fabbrica era una fabbrica di morbidissimi guanti di capretto ma era anche un assetto familiare già scritto era impossibile da modificare una paziente figlia di un padre una grande fabbrica mi dice anche se lui il padre mi assicura che hanno bisogno della mia energia e che mi lasceranno fare non è vero e lo dice con le lacrime agli occhi ora c'è una scena torno al torno al libro c'è una scena del libro pastorale americana in cui il padre continua ad andare il padre il padre dello svedese quindi il padre del padre il nonno della figlia di cui parleremo quindi il nonno il padre dello svedese continua ad andare ogni giorno in azienda ma è ovvio che non c'è più bisogno di lui e il figlio gli dice con dolcezza di andare a casa quel punto la segretaria risponde riprendendo lo svedese lo svedese aveva ereditato l'azienda lo stava conducendo molto bene quindi suo papà però continuava ad andare ma la segretaria ex segretaria del padre cosa dice allo svedese dice questa è la sua fabbrica e la sua del padre e diceva la verità in effetti per esempio ed è il problema anche per la paziente che citavo prima il problema è che questi genitori non lasciano mai cioè l'eredità che che danno è spesso contaminata l'eredità per loro non è un dono ti lascio e fai quello che credi ma è un legame questa eredità può diventare un laccio allora è un marchio un timbro originario che non si toglierà mai sarà sempre la fabbrica del padre questo sta dicendo la segretaria ed è questo che sentono in cuor loro molti figli che vanno a fare altri lavori meno remunerativi pur di avere una strada loro pur di avere un posto loro un altro paziente ha rifiutato di entrare nella fabbrica paterna o diciamo c'è entrato a metà perché sapeva che quello era il sogno del padre non il suo e allora sul sogno mary che è la figlia dello svedese che quella che distrugge il sogno americano è proprio la distruzione da dentro del sogno americano è un sogno americano quello il sogno americano è quello che non ammette di guardarsi dentro infatti cosa scrive roth cito un uomo le cui scontente scontentezze erano quasi ignote a se stesso e che raggiunta la mezza età apriva gli occhi sull'orrore dell'introspezione qui sapranno dello svedese lo svedese a mezza età con ciò che gli ha combinato la figlia apriva gli occhi sull'orrore dell'introspezione perché il sogno americano non vuole introspezione e quindi lo svedese è un uomo molto comprensivo aiuta la figlia e più l'aiuta e più è comprensivo più mary è distruttiva più lo svedese è perfetto responsabile etico più il male si abbatte su di lui e scrive roth non importa che lo svedese fosse realmente la causa di qualcosa lui si considera comunque responsabile tenendo sotto controllo non soltanto se stesso ma qualunque altra cosa minacciasse di diventare incontrollabile dando tutto per tenere insieme il proprio mondo fine della citazione quindi il male che si abbatte su di lui si chiama mary e mary sua figlia unica figlia toglie il velo alla perfezione dello spirito americano alla questo spirito che è secondo gli occhi gli occhi nostri europei un po' tronfio e anche un po' infantile cito sempre roth e poi la perdita della figlia la quarta generazione americana una figlia fuggitiva che avrebbe dovuto essere l'immagine perfezionata di se stesso come lui era stato l'immagine perfezionata di suo padre e suo padre l'immagine perfezionata del padre di suo padre capite che claustrofilia da generare una claustrofobia e invece mary la quarta generazione che è già andata bene perché per esempio nei budenbrock alla terza generazione si sa il banco salta no quindi invece mary scoperchia la pentola e quindi la figlia dello svedese e della miss del new jersey non dimentichiamo la mamma è la mamma dello svedese lui era bello campione di rugby meraviglioso eccetera naturalmente sposa questa miss del new jersey e quindi questa figlia dello svedese rappresenta anche l'intima fragilità del sogno americano e mary aveva anche un'altra caratteristica balbettà come dire che il quadro non teneva le balbuzie noi sappiamo che spesso sono un quadro familiare che non tiene ma adesso non voglio aprire questa parentesi qual è il tradimento di questo sogno si pensa che in pastorale americano 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 lo svedese sia stato tradito dalla figlia in realtà la figlia gli è fedele è una fedeltà sotto traccia è una fedeltà che passa dal padre alla figlia dalla madre detestata dalla figlia ed è che cos'è questa fedeltà sotto traccia è una vena di fanatismo che percorre tutti i personaggi lo svedese nella sua mania di perfezionismo e di bravo ragazzo la moglie con la sua ossessione delle mucche la storale americana no capite c'è questo hanno la casetta no nella e poi la figlia che traduce l'eredità svelandola con il suo fanatismo da setta entra in una setta l'impresa l'impresa che accomuna tutti la loro vera impresa è la setta per oggi mi fermo qui ma farò altre puntate su questo tema perché è molto interessante grazie avete ascoltato il podcast alla radice delle dipendenze affettive in famiglia in coppia e nei gruppi laurapigozzi.com laurapigozzi.it